Coraggio, non la tiriamo per le lunghe, ok? Dammi un bacio. Addio Rachel. Addio Frank. I should stay, I would only be in your way, so I'll go. Tutto bene? Sì, tutto bene. And I know, I'll think of you every step of the way. Ferma! And I will always love you. We'll always love you, you, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you, you need. And I will always love you. Oh, I will always love you. Il nostro oratore di stasera è stata a lungo una coraggiosa boss calamantis in deserto. Ha sfidato da solo i responsabili della connivenza fra criminalità organizzata ed attività legittime. Benvenuto, senatore. Cominciamo con la preghiera che verrà recitata dal reverendo Philly Pardy della prima chiesa presbiteriana di Iowa Rapids. Padre Celeste, invochiamo la tua benedizione in questo giorno in cui ci incontriamo nel segno dell'amicizia e del dovere. Fa che se qualcuno fra noi si troverà a tentare un'impresa perigliosa, non sia mai privato della tua protezione. Da a tutti noi la certezza che quando ci troveremo a passare nella valle dell'ombra della morte, tu sarai con noi, ci guiderai e ci proteggerai. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.